È da poco terminata una stagione sportiva per la SD Caldarola Volle e qui con noi il presidente Simone Cataldi. Come è andata quest'anno? Ma diciamo che visti i problemi avuti soprattutto l'anno scorso dovuti al sisma abbiamo ripreso, non abbiamo mai mullato, quindi abbiamo fatto parecchio, ci siamo dati parecchio da fare per comunque continuare soprattutto il settore giovanile che è quello più in difficoltà visto che Moldacente è stata per parecchio tempo fuori dal paese e quindi abbiamo fatto un campionato under 13 femminile, abbiamo fatto poi due prime divisioni maschile e femminile con ragazzi che sono dai 18 anni fino ai più anziani anche oltre i 40 e comunque abbiamo fatto con tutte e due le prime squadre playoff e quindi abbiamo provato a raggiungere la promozione che purtroppo non c'è stata, non per difficoltà anche sia per livello tecnico che per altre cose e comunque siamo arrivati con la maschile terzi, con le femmine quarti e quindi niente alla fine è stato un bel campionato, ringrazio tutti i giocatori. Per la prossima stagione avete già in mente cosa fare, dove vi state orientando? Allora per quanto riguarda le ragazze credo che nonostante abbiamo avuto delle offerte per fare anche un campionato superiore credo che rimarremo sul campionato provinciale, il massimo campionato provinciale e stiamo quindi formando la squadra in questo periodo mentre per la maschile ci sono varie opportunità anche in più forze dello stesso territorio che stiamo vedendo a tavolo in questi giorni per cercare di fare un'area al dange un po' ampliata unendo le forze tra più società vicine. Giuseppe e Francesco Sabatucci sono rispettivamente uno degli sponsor dell'era SD Caldarola Volley di un giocatore. Come mai ha scelto di investire in una società sportiva come questa? Giocandoci mio figlio era difficile potersi sottrarre a questo onere e onore però comunque mi fa piacere, lui si diverte, esce dal lavoro contento di andare a giocare e per me finanziarla è un diletto, non è un impegno così gravoso. Com'è invece giocare Francesco? Beh sicuramente l'ambiente è bellissimo, una società che come noi la storia più o meno ci accomuna ha avuto molte difficoltà dopo il sisma e nel post-sisma si è ripresa molto bene. La società si è tenuta su molto 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 bene insieme, unita, hanno promosso vari eventi sia a livello di raccoglimento fondi piuttosto che a livello di promozione della società stessa. L'ambiente è fantastico, si sta in amicizia, si gioca, ci si diverte e si prova a vincere qualche partita. Fortunatamente quest'anno è andata bene ma poteva andare meglio.